Buonasera, ben ritrovati per questa nuova puntata di HV24 in diretta dal ritiro che ospita il Verona in vista della seconda giornata di campionato in programma domani alle ore 18 contro il Cosenza. La squadra è partita questo pomeriggio all'aeroporto Cattullo di Verona intorno alle ore 16.15, viaggio in aereo e poi il trasferimento qui nel ritiro domani in campo alle ore 18. Sono praticamente tutti a disposizione i giallo e blu ad eccezione dei due squalificati Davidovic ed Emperor dell'infortunato Sisse e di lì impegnato con la sua nazionale. Andiamo a ascoltare le parole di mister Fabio Grosso che ha presentato così il match. Tra le tante difficoltà di questo campionato c'è l'attenzione o la pressione che anche gli avversari vogliono scaricare sul Verona. Abbiamo sentito quello che ha detto Bisio nel post partita, Braglia poco fa ha detto che il Verona è strafavorito, che tocca al Verona fare la partita. E' una componente non da poco anche questa. Ma non credo debba incidere più di tanto, noi dobbiamo avere l'equilibrio giusto che ci permette di affrontare i momenti difficili, i momenti belli nella stessa maniera. Lavorando quotidianamente per diventare più forti di quello che siamo, sicuramente ci vengono riconosciute tante qualità, abbiamo tanti interpreti bravi e sono stato io il primo a dirlo. E sono stato il primo a dire anche che non bastano gli interpreti bravi per poter essere protagonista di un campionato difficile che negli ultimi anni ha visto spesso le sorprese avere il sopravvento nel finale. Quindi noi abbiamo affrontato il Padova, una neopromossa la prima giornata, affronteremo un'altra neopromossa, conosciamo le caratteristiche di queste squadre, andremo in un ambiente caldo. E dobbiamo farci trovare pronti perché vogliamo essere protagonisti di questo campionato, ripeto, perché abbiamo le qualità per poterlo fare. Cosenza, hai detto prima, è una partita, un contesto che rassomiglia a quello di Coppa Italia con il Catania, lì ando male per il Verona e ti domando in che cosa vuoi un Verona diverso rispetto a quello di Catania? Naturalmente il risultato questo mi sembra ovvio, però in che cosa sbagliò quel Verona in Coppa e che cosa quindi non dovrà sbagliare domani a Cosenza? Ma abbiamo detto e ridetto e per me questa è una cosa fondamentale della partita, che sono gare che si giocano sul filo sottile degli episodi e gli episodi spesso vengono determinati dalla squadra che ha più aggressività, più concentrazione, che tiene alta l'attenzione su tutte le situazioni di gioco. Noi a Catania non siamo stati bravi a farlo e domani vogliamo farlo in maniera sicuramente diversa, vincere molti più duelli di quelli che abbiamo vinto, essere pronti come lo saranno gli avversari a giocare una partita tosta per poi nel tempo riuscire ad esprimere le nostre qualità. Lo stai dicendo tu perché è la seconda neopromossa su due che si affrontano, quindi arriverà quest'onda lunga del loro entusiasmo da mettere completamente in campo. Forse saranno i primi minuti, l'approccio iniziale, anche molto importanti. Sarà importantissimo, lo ripeterò ragazzi, anche prima della gara perché incanalare questo tipo di partita in un certo modo o far sì che si incanali in un altro sicuramente può cambiare la partita. E noi dobbiamo tenere altissima la soglia dell'attenzione negli episodi, nelle situazioni in cui le palle sono ferme, subito riposizionarci quando le azioni terminano, essere presenti nella gara perché poi la partita è lunga, ci saranno le situazioni in cui potremmo esprimere le nostre qualità. Ma se dovessimo venire meno sotto questo punto di vista, sicuramente, e ci è stato dimostrato anche in passato, sarà più difficile poi riuscire a esprimere quello che sappiamo fare. Continuano le presentazioni di nuovi acquisti in casa Hellas Verona in settimana, si è presentato lo scozzese Liam Henderson, tanti gli argomenti toccati, ma andiamo ad ascoltarlo. Quanto è stato importante per il tuo arrivo all'Ellas Verona la presenza di Fabio Grosso che ti ha avuto già come giocatore a Bari l'anno scorso? Per me era una decisione abbastanza facile per me perché ho già conosciuto Fabio Grosso, come hai detto a te, e lui ha capito bene la mia situazione e mi ha dato un'opportunità a Bari, e quindi era abbastanza facile venire qua quando l'Ellas Verona mi ha chiesto. Domenica è una partita che si chiuse in pareggio per il Verona, una partita difficile anche a centrocampo, per voi in mezzo è stata una gara particolarmente dura. Com'è la interpreti? Sì, a settimana era una partita difficile contro una Padova forte, anche fisicamente. Personalmente non era la partita che volevo fare, però siamo una squadra nuova, siamo una squadra in cui dobbiamo conoscersi meglio, giorno dopo giorno lavoriamo insieme per il migliore. La prossima partita è a Cosenza contro il Cosenza, l'impressione che ci voglia un po' di grinta stile British per vincere in quei campi difficili. Quanta grinta British ha questo Verona? Perché è sembrata mancare un po'. No, non manca la grinta, ogni giocatore domenica ha dato 100%, mancava solo forse un po' di qualità alla fine. Tutta la squadra ha lo stesso obiettivo e la cosa più importante è la squadra. La squadra ha lo stesso obiettivo e tutti vogliono andare in la stessa direzione, quindi penso che la cosa più importante è la squadra. Tutti insieme per Zahelas Verona. Da Anderson a Balkovic, perché anche il terzino sloveno si è presentato ufficialmente alla stampa ai tifosi gialloblu, tanti anche da lui i temi toccati dalla conoscenza con il pubblico gialloblu fino alla sua esperienza all'Ellas Verona. Andiamo a ascoltare però le sue parole. Sei un ragazzo giovane, quest'estate eri svincolato, hai fatto bene al Bari negli ultimi mesi, quindi potevi far gola tanti. Mi dici perché è proprio Verona, perché hai scelto Verona? Per me non è stata facile perché non vedevo l'ora di iniziare a giocare e di raggiungere i miei nuovi compagni di squadra. Ho scelto Verona perché è una piazza importante e come club ha una storia molto importante a livello nazionale. Inoltre conoscevo il mister e conosco ciò che vuole in campo ed è stato facile scegliere. E' stata una facile conseguenza. Non hai giocato la prima di campionato, ti abbiamo visto scaldarti per tanto tempo, però Verona ti sta già portando fortuna perché se non sbaglio è arrivata una convocazione in nazionale. Sì, mi stavo riscaldando perché Al Mici ha preso una botta e quindi c'era questa possibilità. Per quanto riguarda la mia situazione è stato così anche a Bari. So che devo lavorare duro per guadagnarmi il posto e sto aspettando la mia chance. Per quanto riguarda la Slovenia so che il CT mi sta guardando e quindi questa è una dimostrazione anche la convocazione in nazionale. Mentre per quanto riguarda il resto siamo ancora all'inizio e avrò sicuramente il tempo per dimostrare il mio valore. Sì, so che qui Tutti ci aspettavamo una vittoria per quanto riguarda il match con il Padova perché è inutile nasconderlo ma a tutti piace vincere. Contro il Padova appunto è stato un match molto difficile come lo saranno tutti in questo campionato. A Cosenza sappiamo perfettamente che sarà uguale ma nella nostra testa c'è la voglia di vincere e in più grosso ci sta preparando sul campo per dare il massimo e ci sprona sempre a dare il massimo anche fra di noi compagni. Il gruppo si sta cementando e questo sono convinto ci aiuterà da qui in futuro. Partiamo da Balcovec per parlare dei nazionali gialloblu perché è stato convocato il terzino sinistro della Sverona proprio nella rosa della Slovenia che è andato ad affrontare gli impegni della Nations Cup. Due in particolare quelli della nazionale slovena, il primo contro la Bulgaria il 6 settembre all'ora 20.45 a Ljubljana e il secondo il 9 settembre all'ora 20.45 a Nicosia contro il Cipro. Non solo Balcovec fra i convocati gialloblu anche i due giovanissimi, Maras Kumbulla per l'Albania Under 21 che andrà ad affrontare per le qualificazioni all'europeo di categoria. La Spagna il 6 settembre e l'Italia proprio l'11 settembre e Andrea Danzi, il giovane classe 1999 veronese che con l'Italia Under 20 sfiderà la Polonia nel trofeo 8 nazioni. Da qui torniamo alla partita di Cosenza però analizziamola anche da un punto di vista storico perché siamo andati ad ascoltare una bandiera gialloblu, più di 250 presenze per lui con il Verona. Libero Giancarlo Savoia, esordito giovanissimo con il Verona, ha 20 anni, una sua presenza proprio allo stadio San Vito, Marulla contro il Cosenza. Terminò 1-0 per il gialloblu quella partita, andiamo ad ascoltare i suoi ricordi. Nella splendida sede degli ex gialloblu con Giancarlo Savoia, una bandiera dell'Ellas Verona, oltre 250 presenze, esordito giovanissimo ed era uno anche dei protagonisti di tanti Verona, Cosenza Verona che sono giocati negli anni 60. Che Verona era quello dell'epoca? Raccontaci poi i tuoi compagni di squadra, anche come si organizzava una trasferta al sud. I miei compagni di squadra erano una gran squadra, c'era Boichi, c'era Maioli, c'era Cera, c'era Bonatti, eravamo una bella squadra. Poi l'organizzazione per scendere si faceva l'abbinamento di due squadre del sud e si rimaneva una settimana là. Ti ricordi che partita è stata quella del 63-64, altri Cosenza Verona che magari sono rimasti impressi nella tua memoria? Beh, in quel periodo lì, parliamo di oltre 50 anni dunque, nel periodo lì erano le partite che si andava bene, si rimaneva lì a giocare, si stava bene perché durante la settimana là era l'unico momento di tranquillità che si aveva. Quindi andavate a giocare al sud, poi nel caso di doppia trasferta al sud si restava via una settimana, quindi tanto tempo fuori casa per voi giocatori dell'epoca? Sì, sì, sicuramente tanto tempo, poi si andava in treno, ovvero non è che c'era ieri come la comodità che c'è adesso, e i campi di calcio erano quelli che erano, ovvero l'erba si vedeva da lontano. E se tu dovessi dare un consiglio ai gialli e blu che scenderanno sabato a Cosenza cosa gli diresti? Io direi di essere sempre aggressivi, l'arma migliore è sempre l'aggressività, è quello che conta, è quello che fa la differenza. E infine tu che hai dato tanto per il Verona, hai giocato tanto per il Verona, non posso non chiederti un ricordo su Fausto Nose, non ci hai mai giocato insieme, però c'è un'amicizia che vi lega, quindi un semplice ricordo. Sì, con Fausto sicuramente è un'amicizia grande, perché oltretutto essendo un ex siamo sempre tutti assieme, e direi che un ragazzo eccezionale era. E poi era un buon giocatore, perché aveva i piedi buoni, e quando uno ha i piedi buoni è sempre un buon giocatore, lo salutiamo. Vediamo ora la partita attraverso i numeri e le curiosità, partendo dai precedenti, perché sono 20% in Serie B fra Cosenza e Della Sverona, con il bilancio fuori giallo-blu con 9 vittorie. Il Verona poi la squadra con il più alto dato di possesso palla per quel che concerne la prima giornata, 66,3 il dato dei giallo-blu, mentre sono ben otto i calciatori dell'Ella Sverona che sono andati al tiro nel primo match stagionale della stagione 2018-2019. Un altro dato per quanto riguarda i singoli è Alessandro Crescenzi con 117 palloni toccati, colui appunto che ha effettuato più giocate all'interno della prima giornata del campionato di Serie B. L'arbitro invece è il signor Piscopo della sezione AIA di Imperia, per lui esordio assoluto con il Verona, mentre sono due i precedenti con il Cosenza, l'ultimo risale alla stagione 2015-2016, si trattava del campionato di Lega Pro e in quella partita appunto il Cosenza vinse 1-0 contro la Fidelis Andria. Parliamo anche di giovani, spostiamoci verso il settore giovanile perché abbiamo ascoltato Mr. Nicola Corrent che ha cominciato così la stagione con gli Under-17 dell'Ella Sverona. Un veronese alla guida dell'Under-17 del Verona, Mr. Nicola Corrent, dopo l'esperienza come secondo dell'Ella Sverona in prima squadra, un'esperienza adesso altrettanto importante, si prospetta questa alla guida invece di una categoria importante? Sì, ho iniziato questo nuovo percorso, questa nuova avventura con grande entusiasmo, umiltà e grande passione come un po' sempre fatto le mie cose e non vedo l'ora di cominciare, sicuramente saranno delle esperienze nuove per me con dei ragazzi giovani ma però sanno già quello che vogliono e cosa devono fare quindi il mio compito sarà cercare di metterli nelle migliori condizioni per divertirsi e crescere e essere pronti il prima possibile, mi auguro, giocare allo stadio che abbiamo alle nostre spalle. Tu Lellas è stato capitano ma ce l'hai anche dentro, è una passione che nasce da lontano. Sì, ho avuto la sfortuna di andare via molto presto da casa, 11 anni e forse quello ti lega ancora di più alla tua città e poi ripeto ho avuto tante fortune e di questo sono contento e orgoglioso da poter fare di una passione un lavoro e di riuscire a farlo in tanti posti importanti e di farlo a casa propria, nella propria città, propria squadra del cuore facendo anche il capitano e poi facendo anche il vice allenatore e quindi insomma diciamo che con questi colori ho tante cose da dividere qualcuna molto positiva, qualcuna negativa però fa parte dello sport e del gioco e io sono contento. Ecco anche con il direttore Margiotta, qual è l'obiettivo che vi siete posti per la stagione? Il direttore è stato chiaro come l'obiettivo di un settore giovanile deve essere principalmente quello di far crescere i giocatori di farli migliorare, di farli immaturare sotto mille punti di vista e cercare di arrivare in primavera il più pronti possibile perché comunque è la categoria alle spalle della prima squadra. È altrettanto vero che secondo me più riescono ad avere anche dei risultati positivi più c'è gratificazione e entusiasmo però alla base è quella di far crescere questi ragazzi e di dargli tutto quello che posso dargli insomma e sicuramente sarà così. È un percorso che ha iniziato in questi anni e sta dando i suoi frutti, anche l'anno scorso Danzi anche con te alla guida della squadra ha fatto diverse partite in Serie A con Bulla e Gianella Rosa della prima squadra, Tupta non era così fino a qualche anno fa? Io credo che deve essere un punto di partenza quasi obbligato soprattutto per una squadra diciamo come il Verona dove deve magari non può permettersi di andare a comprare giocatori da fatti quindi deve lavorare bene per cercare di costruirsi lì in casa propria e stanno lavorando bene e mi auguro che sia una cosa ormai di routine e alla fine grandi società come l'Atalanta e tante altre, anche il Mila stesso negli ultimi anni ha fatto giocare molti giovani e mi auguro per il Verona che sia anche per loro così. Andiamo ora a vedere nel dettaglio tutti quelli che sono i match in programma per il fine settimana del settore giovanile dell'Ellas Verona, derby amichevole per la primavera che in attesa di conoscere il proprio calendario sfiderà il Vicenza all'antistadio sabato mattina impegnati nel tradizionale Memorial dedicato all'ex dirigente giallo-blu Nardino Previdi gli Under 17 mentre per quanto riguarda il Memorial Firetti saranno impegnati gli Under 16 di Pellegrini Fiorucci Cap nel programma degli Under 15 mentre i giovanissimi 2005 prenderanno parte al Memorial Peretti che potrà durare fino a domenica sempre tornei per Under 13, il Città di Fabbrico, per gli esordienti 2007, il Fiori del Baldo e per i Pilcini 2009 e 2010 impegnati nel trofeo Simtech Engineering. È tutto per questa edizione di HV24, non ci resta che augurarvi un buon fine settimana.